Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. La regione campagna risponde all'appello lanciato dai lavoratori della Nuovo Legno, mercoledì sera nel corso della nostra trasmissione Ride. Durante la puntata avevamo anche ottenuto un impegno da parte del consigliere regionale Todisco. Ieri finalmente gli assessori di Palazzo Santa Lucia, Palmeri, con delega al lavoro, e Marchiello, con delega alle attività produttive, hanno sollecitato la convocazione di un tavolo presso il mese, finalizzato a verificare ogni possibile soluzione a favore dei lavoratori. Dopo il dramma raccontato in diretta a Ride da una parte dei 117 dipendenti della Nuovo Legno, dietro ai quali ci sono mamme, moglie e figli, che all'improvviso hanno visto cambiare la loro quotidianità, ecco che le istituzioni cominciano a muoversi. Intanto, per questo pomeriggio alle 17.30, il sindaco di Montefreda, Valentino Tropeano, ha convocato il Consiglio Comunale Straordinario Aperto, a cui sono stati invitati anche i parlamentari irpini. L'interesse all'avvertenza, dichiarato dall'onorevole Pallini, intervenuta telefonicamente in diretta, e quello proclamato da altri, ora dovrà assumere concretezza.